Hola e benvenuti in questo nuovo video, siamo di nuovo in compagnia di Federico e siamo oggi nella pizza challenge abbiamo scelto 3 prodotti a testa, quindi col totale di 12 prodotti perché parteciperà anche Francesco, l'assistente dell'altra volta però che sarà al di là della telecamera perché non vuole apparire è un po' finito è un po' finito quindi, allora, sulla pizza abbiamo la pizza su gelata che per noi che siamo napoletani, cioè per me che sono napoletana sono da 6, comunque è tipo una botta al cuore mangiare una pizza su gelata comunque non fai niente, questa volta faremo l'eccezione comunque abbiamo la panna, il pepe, i brustel, il patè al salmone i dorè che sono dei biscotti, la marmellata di peste poi salsa barbecue poi pesto, radicchio specchio, nutella, tabasco, raffer e patate quindi adesso andiamo a cuocere la pizza leggermente e poi inizieremo la challenge abbiamo messo in un recipiente tutti i fogliettini a turno li pescheremo e metteremo tutto sulla pizza qui c'è la pizza allora, inizia tu? vai fai una cosa, pesca lì già tutti i panici no, hai di bella ok, inizio ad aprire prima sbaffer mmm, specchio e radicchio tu? nutella nutella allora, specchio e radicchio adesso è quella che è andata meglio è lo specchio a me non piaceva ma con la forchettina mamma mi depuccia senti, senti hai senti un baffer, vai bene, sì è la challenge scorsa io la nutella e non la ho mangiata ok allora io questo te lo metto questo? hai dare anche te vedi, ma non è me lui è auto-lesionista per esempio cosa? sei auto-lesionista vai vai allora ora brussel pepe oh re do re pepe si è giusto ma chi è tutta dolce? quella di adessia di do re, è fantastico oddio, ma tu è tutta dolce oh re, tutti biscotti puoi? uno perché a me fa ma è pepe o pepe? Nutella col pepe buonissimo vai non so già che la mette le scritte no, ho già letto panna pate, pate no panna tabasco la panna chi chi ha il pate? tabasco che schifo ma posso lo metto accanto a tabasco? no oddio mia che puzzo hai fatto? tabasco, poco eh ecco qua faccio vedere a incambi mettere la giusta non è scelta non è scelta ok no, fede, un po' di più dai, un po' di più un po' di più ultimo ingrediente per tutti sei io bene è rimasto ora la marmellata ma lo vedi prego no la marmellata patatine non è la marmellata l'ho già stato patatine è vero che la marmellata allora mettiamo una patata hot chicken una patata sulla nutella aspetta la porchettina no scusa ah no la mince sta dolce tranne ok questo è il risultato della mia pizza non vedrete mai come fa pena adesso andiamo a cuocere allora abbiamo appena finito di abbiamo stop Ale questa parte la devi tagliare allora abbiamo appena finito di di fare le pizze e questo è il risultato se non l'avete notato ma questo è il risultato allora questa è la mia questa è quella di Ale sì e questa è quella dell'assistente ok adesso andiamo a vedere le pizze che vanno in cottura qua c'è il forno che abbiamo appena che abbiamo acceso in modo tale che facciamo prima a cuocere le nostre pizze Alessia che ha appena infornato le pizze dentro ci sono le pizze qui non so se dove le avete però sono lì dentro questa è una pubblicità allora iscrivetevi al mio canale fedetv fedetube cos'è questo? devi mettere qui sotto il nome del mio canale il link è in descrizione allora eccoci qua adesso Alessia sta sfornando le pizze allora adesso Alessia in questo momento sta impiattando le pizze questo processo è molto scottante perché si è già scottato due volte qui possiamo vedere che adesso ride un po' e va allora possiamo vedere la pizza dell'assistente poi la pizza di Alessia e infine ecco qua la mia pizza che sarà sicuramente schifosa che sarà sicuramente schifosa le ho il tabasco nutella patate pepe vai 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 ma puzza la mia buzza il sangue eh no le patatine no mamma no 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 io ho il primo morso il tabasco non ti piace la reazione dell'assistente fa schifo ti piace no però il patate copre tutto io sto sentendo solo il patè ed è caldo per casa ma che morso che hai fatto? il tabacco ma ti piace? ma come fate a mangiare? questo lo sto mangiando tutta io sento solo il patè la nutella copre tutto lo giuro la nutella a me copre tutto buona? a me non è malissimo, devo dire la verità? solo che c'è il tabacco nella nutella perché? a me è la verità? a me, a me no va, va a fare il patè buono l'ho senta proprio qua ma è bello sai cosa è che l'ha rovinato proprio a seco? l'otto città ma rovno è pesante metta Pasqua basta, abbiamo mangiato tutta cioè io vorrei farvi dire una cosa questa è la sua pizza questa è la mia cioè per farvi capire la grandezza di quanto lui ha mangiato ma guarda ma guarda è continui ma buona posso ciò? no perché è impossibile no, mi piace c'è radice che non mi piace però è molto meglio di quella di Fede quella di Fede fa scu' 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 ma a me è buonissima la dolce a me sembra il panino del McDonald's l'hot chicken sembra il panino del McDonald's te lo giuro mi piace un d'otto allora comunque a loro sono piaciute tutte le pizze perché le hanno assaggiate tutte quante no 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 ah no solo a Francesco mi è piaciuta quella di Fede a me la mia è piaciuta a metà perché c'è la tabasco però per il resto cioè lui si sta mangiando la mia pizza per farvi notare questa cosa è la pizza più accettabile sta mangiando la mia pizza che secondo me il problema della mia pizza era l'hot chicken il problema della sua era la nutella mia mia mamma il problema della tua era la marmellata secondo me no a me è il papà vabbè comunque ragazzi questo video è anche arrivato al termine ci vediamo in un prossimo video spero di rivederli presto perché loro non sono di qua quindi è quando vengono che possiamo fare qualcosa insieme ci vediamo in un prossimo video iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale e ciao 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 ciao